Claudio Di Giacomo e Massimo Sciannimanico conoscevano bene il tipo di aereo su cui si trovavano e su cui volevano spesso, avendo conseguito il brevetto da pilota dopo aver superato l'apposito corso presso l'aereoclub di Pescara. A rivelarlo è Cristiano D'Ortenzio, presidente dell'associazione di cui entrambe le vittime dell'incidente che si è verificato ieri a Terni erano soci e assidui frequentatori. Secondo quanto ricostruito in un primo momento dai vigili del fuoco, il velivolo con scrittario Club Pescara diretto all'Aquila sarebbe caduto subito dopo il decollo alla fine della strada di Maratta verso Narni, poco dopo il parco Cico Mendes nella zona dell'aviosuperficie Leonardo di Terni. Subito dopo l'impatto avvenuto su un terreno che si trova accanto alla superstrada E45, il velivolo avrebbe preso fuoco generando un incendio che si è steso anche alla vegetazione circostante che è stato spento poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato, quella locale, i vigili del fuoco per domare l'incendio e gli operatori del 118. Le due indagini aperte dalla magistratura e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo serviranno a capire la dinamica esatta dell'incidente. Queste le dichiarazioni rilasciate alla stampa da Cristiano D'Ortenzio al ritorno dalla questura di Pescara dove questa mattina sono state depositate le carte richieste dall'Aereoclub di Pescara per le indagini in corso. Che idea si è fatto di questo tragico incidente? Adesso è ancora presto per dire della dinamica, abbiamo diverse versioni che ci hanno riferito qualche testimone oculare però molto sommarie e poco precise quindi attendiamo le inchieste sia della magistratura che dell'Agenzia Nazionale di Sicurezza del Volo. Noi abbiamo fornito la documentazione che già avevamo inviato ieri alla squadra mobile di Terni, ci hanno richiesto di formalizzarlo qui a Pescara quindi è solo una prassi di quello che già avevamo fatto. Un aereo di aviazione generale tecnicamente è un parte navi a P66 Charlie, è un aereo in uso in tutte le scuole di volo italiane ma anche presso piloti privati, quindi un aereo comune di utilizzo usuale tra i piloti. Sull'aereo non abbiamo dubbi sulla manutenzione, noi siamo una scuola certificata e vogliamo un ambito di aviazione generale certificata quindi tutti gli operatori sia per persone di volo che il personale di terra è certificato e seguono una disciplina rigorosissima. L'aereo aveva fatto l'ultima manutenzione se non sbaglio 15 ore di volo prima, quindi lì non abbiamo alcun dubbio, poi chiaramente l'errore umano può essere anche del manutentore piuttosto che del pilota, però sulla disciplina della manutenzione metto le mani sul fuoco. Ulteriori chiarimenti arriveranno anche dall'analisi della scatola nera e dall'esame dettagliato dei rottami che potrebbero rivelare informazioni preziose sul volo e sulla possibile insorgenza di malfunzionamenti meccanici o errori umani. Per avere un quadro più dettagliato del contesto in cui si è consumata la tragedia, gli esperti di aviazione prenderanno in esame anche il meteo e le condizioni operative al momento del volo. Cosa potrebbe essere accaduto? Tra l'altro noi stavamo qui quindi attendiamo qualche altra informazione più precisa. Dicono che sia sciannimanico al posto di comando, però non ho notizia ufficiale di questo perché il pilota in comando è quello che è a sinistra, quindi dovremmo adesso vedere i rilievi della polizia. I cavi sono segnalati sulla cartina della pista, sono ben segnalati e anche l'altezza dei cavi non è così preoccupante se l'aereo prende bene quota. Poi è chiaro che se c'è stato un inconveniente durante la fase di decollo, stando davanti proprio il percorso del velivolo, potrebbe essere possibile che l'abbiano impattato. Anche leggermente però poi ha squilibrato completamente l'aereo. Claudio Di Giacomo e Massimo Sciannimanico, il primo imprenditore nel settore vitivinicolo con un passato da vicepresidente della Pescara Calcio tra il 2007 e il 2008 e il secondo veterinario con studio a Pescara, erano entrambi residenti nel Pescarese. Sono nostri ex allievi, hanno costruito il brevetto qui, volavano continuamente, gli ultimi voli risalgono a qualche mese fa, sia con tutti gli aerei della flotta, quindi sia con l'aereo con cui hanno avuto l'incidente che con gli aerei che gestiamo come aeroclub. È un evento tragico, considerate che nella storia dell'evento di questo aeroclub è il secondo evento tragico in 50 anni, l'ultimo risale forse nel 1950, quindi è chiaro che non sono eventi che destabilizzano un attimo emotivamente tutti noi. Erano persone molto sincere, molto facevano gruppo, uscivano insieme, uscivano con altri soci con cui avevano conseguito il brevetto, quindi erano soliti volare spesso anche con altri piloti. Claudio pure frequentava molto le attività sociali, quando facevamo qualche cenetta, qualche evento, era sempre presente, quindi ricordo molto bello di loro.